Sossano esce di strada e l'auto finisce la sua corsa su un campo e su un fianco. Ferita la giovane conducente residente in paese. Sono quasi le 8 del mattino quando in via Saiyanega, per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale Basso Vicentino, la giovane perde il controllo del mezzo, finendo fuori strada e ribaltandosi. I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la 19enne che è stata affidata alle cure dei sanitari del suo, è arrivato da 90 Vicentina. Grazie a tutti